Eccoci qua, ci rivediamo qua stasera. Non avevo finito gli aggettivi prima in telecronica perché intanto come sta Mattia? Bene, benissimo, grazie. Saluto anche la mamma che mi sta guardando da casa. Eccoli lì e mi pare che sia andata molto bene anche stasera. Un Valdagno cinico determinato, è andato tutto bene e un Valdagno che si è ritrovato e che ad ogni partita fa vedere qualche miglioramento. Lo abbiamo detto anche l'altra volta, proprio insieme, ti ho voluto stasera anche perché dopo una prestazione così, questi alzi schiaccia, questi numeri, queste leggiadrie e corregimi se sbaglio, hai già giocato a Grosseto anche tu? No. No, ora me ne manco io. Mi sono sbagliato prima. Comunque negli alzi schiaccia stasera hai esagerato. No, intanto buonasera a tutti. Sì, diciamo che veniamo da un periodo positivo. Stiamo crescendo, ci stiamo allenando veramente bene e è un po' una conseguenza. Dopo sappiamo che abbiamo comunque sempre una situazione difficilissima e quindi questo ci dà la carica di uscire un po' da questa situazione. E niente, la squadra sta crescendo, siamo contenti, stiamo lavorando bene, ripeto, quindi dobbiamo continuare così perché siamo nella strada giusta e dobbiamo arrivare in fondo bene, insomma. Poi una nota di colore ce la metto io. Era in campo prima con uno dei tuoi giovani allievi con Nicolo Crocco che negli ultimi cinque minuti quasi se segnava il gol eravamo a posto perché ero spagato per una settimana da bere a tutti. Direi che anche quello è un segnale. Stasera Nico Geda assente per temporaneo infortunio e c'è anche un Valdagno più giovane che sta gestendo bene il ricambio. Sì, sì, è chiaro. Beh, Nicolo, io lo conosco da una vita, lo è allenato praticamente dal mini hockey in su. È un ragazzo sicuramente con talento e bisogna dare insomma la possibilità sicuramente quest'anno con i problemi che abbiamo avuto, lo spazio è stato meno, però sta lavorando benissimo anche lui, quindi oggi il Ministro gli ha dato l'opportunità di farsi vedere e niente, sta anche a lui insomma quando scende in campo dimostrare insomma quello che vale. Un po' come fa anche Davide Piroglio ultimamente, complimenti ancora e forza Valdagno, ci vediamo, speriamo ancora presto e prossimamente. Intervisterò anche qualcun altro evidentemente. complimenti ancora, saluti in tribuna.